Ci sono anche sei penne nere del Verbano tra coloro che mobilitatisi come volontari della protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini, in queste ore stanno prestando la loro opera a favore delle popolazioni alluvionate della Toscana. A Campi Bisenzio, nella città metropolitana di Firenze, un gruppo della sezione Intra è impegnato a svuotare cantine dall'acqua, rimuovere il fango e mandare al macero arredi e oggetti irreparabilmente danneggiati. Se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online, è live 24 ore su 24.